che è? che è? attenzione foratura foratura per black fox ripariamolo subito ripariamo subito bene ragazzi prima di iniziare ovviamente facciamo una grandissima pausa colazione buon dì pausetta oggi ragazzi direzione bosco di cerano in compagnia di 2001 george beck fox e mister mandorino vediamo di realizzare questo primo video decente bosco con marco com 2001 salvatore mandorino e eccolo qui george black fox ragazzuoli inizia il bosco subito george black fox e marcolino com iniziamo con la prima discesa tutta scassata mamma mia fantastico bosco oggi bellissimo conticello si attraversa strappetto subito iniziale tutto sulla destra già percorso tutto scassato oh oh Pidane! Milioni di moscerini Occhio si gira a sinistra Cosa abbiamo qui subito? Discesa Si parte Occhio che si restringe Che bella Attenzione Si entra nuovamente Prima parte scassata Non abbiamo le full Di conseguenza scendiamo Come i pivelli Si riparte Il pit stop Salitina Bene bene Ma non benissimo Attenzione Ammirate Giorgio Black Fox La sua facilità di pedalata Incredibile No Forse si Attenzione Foratura Foratura per Black Fox Ripariamo subito Ripariamo subito Ragazzi Riprendiamo Con i video Ma Giorgio Black Fox Seri problemi Dopo mezz'ora Non riusciamo a riparare Questa ruota Vedremo ora Se Riuscirà A proseguire O Ci abbandonerà Nel nostro giro La sua ruota Posteriore Cede Perde 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 Ci ha fatto Spendere All'incirca 75 euro Di Prodotti Per riuscire a riparare la bici Ma Nulla In vani Dov'è? Come va George? Sei a terra? Andiamo? Vediamo No Sembra No 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 Vai a to Finalmente si scende No 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 E si scende ancora Bellissimo Incredibile Si sale Si sale Si sale Alleggeriamo Mamma mia Mamma mia Raggiungiamo in salita George Giorgio sti cazzi si riprende a scendere ti pareva il rapporto sbagliato un po' fatigaccia discesina discesina impegnativa facciamo andare George Black Fox dove vado? di qui dove vado? si non sto capendo dove va ah eccoti non ti vedevo e ti pareva? si sale si sale si sale ma Grillo non ce la fa e non ce la faccio neanche io spingiamo come i pivelli scendiamo alla bici peccato un ultimo pezzettino attenzione pietre iniziali accompagniamo la bici come sempre George Black Fox davanti a me brivido oh pietra 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 cazzo cazzo che rapporto di merda e non ho sentito si ricomincia a scendere attenzione qui questi sorchi radici radici si bello 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 che è qua? cazzo ce la faranno i nostri eroi? vai scati vai scati si riparte speriamo a scendere sembra di sì oh che è? che è? che è? si è piegata la ruota si è piegata la ruota cazzo cazzo eh ragazzi grande danno alla bici cerchio piegato niente ragazzi oggi giro sfortunato eccoli qui ci mollano aspetta George Black Fox e Salvatore POC appena rinominato la bici come potete vedere assolutamente devastata finisce qui il nostro giro al bosco molto sfortunato questo qua sta portando sfiga un po' decidiamo di abbandonare il tour perché io e Marco siamo gli unici intatti decidiamo di giocarcela con un buon caffè a 5 all'ora e tornare a casa a sera mamma niente abbiamo deciso di prolungare il nostro giro di andare un'altra zona mare a prendere il nostro bel caffettino c'è un piccolo segmento strava oh sap cosa abbiamo lì in lontananza che bello sto pezzo scusa grazie simpatica eh simpatica come una merda che ho la testa la scatiglia oooh 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 jolly giochiamo a un jolly mare 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 ragazzi pausetta abbiamo una fantastica pizzetta puoi far vedere il il resto della tua mela da alimentazione eccola qui eccola qui guardate poi ci rivediamo quest'estate al guna beach marco il cornettino e cappuccino da lattante bene ragazzuoli dopo questa pausa beveraggio chiudiamo il video salutiamo george black fox e marco 2001 chiudiamo questo giro al bosco sfortunatissimo con 60 km poco più troverete il percorso caricato in descrizione e alla prossima